La festa è anche l'occasione per riflettere, questo grazie anche a un'occasione offerta dalla decima giornata della critica sociale che si è svolta oggi pomeriggio e Sorriso Diverso, istituita da Tulipane di Seta Nera, festival internazionale del film corto a tema sociale. Un momento di confronto con il presidente e il direttore artistico di TSN, Diego Righini e Paola Tassoni, insieme a registi e critici sui valori sociali espressi dai migliori film in rassegna. Grazie